Tutti i venerdì alle 9.30 all'interno di Just Today e la domenica in replica alle 9.45 andremo in onda con la nuova rubrica cose buone e giuste, sapori e salute in cucina. Con lo chef Massimo Andrea Di Maggio vi accompagneremo alla scoperta di ricette semplici ma genuine con prodotti poco processati nel rispetto della stagionalità e della cucina mediterranea.